Inizia il talk oggi Alessandro Vercellotti che è avvocato digitale, fondatore Legal for Digital, specializzato ovviamente nel mondo digital, scrive libri, parla in molti eventi, tiene corsi, fa un sacco di cose, non abbiamo ancora capito se dorma o meno nella sua vita, poco dice, però fa un sacco di cose. Vi racconterà tutto sui come evitare di pagare per il vostro cliente, io so che poi ci saranno milioni di domande, vi chiedo la cortesia una testa, di solito tutti quanti e domande non consulenze ovviamente. Vi lascio nelle mani di Alessandro. Benvenuti, io il pranzo era leggerino quindi ce la possiamo fare. Allora, parliamo di contratti. Non usciremo da qua con un contratto, ve lo dico, quindi chi se lo aspetta ahimè non è così. Il mio fine è quello di farvi porre l'accento, l'attenzione su alcune cose che vi possono cambiare la vita, soprattutto per quel motivo lì, quello di non pagare per il vostro cliente. Spesso si pensa nell'ambito contrattuale che il problema sia non mi pagano, quello è uno dei problemi, ma pensate a tutte le responsabilità, l'amico GDPR eccetera, immaginate le multe, immaginate le eventuali cause, questo è l'obiettivo. Presentazione è già stata fatta, quindi saltiamo. Questo sarebbe il menu. Parleremo di materiale, parleremo di proprietà intellettuale, di promozione da parte vostra, di pagamenti, di recesso, delle simpatiche clausole vessatorie e di responsabilità. Non a caso la responsabilità ho tenuto per ultima. Parliamo di materiale. Quando faccio consulenza il primo problema che mi viene posto è il mio cliente non mi consegna il materiale. Foto, testi, anche solo le immagini nella pagina chi sono e poi la soluzione cos'è? Diamo fotostock o peggio ancora bisogna andare noi a fargli le foto perché non si sa perché e magari dovete inventare la storia di un'azienda? Questa è una cosa che ho sentito spesso, ma davvero spesso, per non dire quasi sempre. Per me è uno dei problemi, una delle cose da tutelare infatti è proprio questo. Cosa fare? Prima di tutto stabilire delle tempistiche. Entro quanto tempo ho bisogno delle foto per farti questo sito? Entro quanto tempo mi devi dare i testi? Hai acquistato un sito, la realizzazione di un sito e i testi competono a te cliente? Bene, dammeli perché sennò io non posso fare il mio lavoro e questo chiaramente si lega anche al pagamento, al saldo del prezzo. Poi, quale materiale consegnare al cliente? E qua vi dite, ma stiamo parlando del materiale da parte del cliente, ma anche viceversa. Fate un mock-up del sito prima di cominciare a lavorare? Sì? No? Scrivetelo sul contratto. Scrivete proprio gli step cosa darete al cliente, cosa si deve aspettare il cliente. Il sito sarà subito messo online o lo potrà vedere offline? Scriviamoglielo. Poi, le revisioni. Questo è un altro buco nero. Perché? Perché c'è quello che chiede di modificare il sito cento volte. C'è quello magari che inizia un business e nel mentre, ah no, ma adesso noi facciamo anche questo. Magari avete strutturato tutto un sito in un certo modo, però lui adesso vende anche questo prodotto. Passiamo dal sito vetrina, arrivano a fare un e-commerce nell'arco di un mese. Questo va tutelato. Se noi sul contratto mettiamo solo realizzazione del sito web, non siamo a posto. Poi, l'altro problema, l'inerzia. Perché chiaramente un cliente che non si muove danneggia il suo business, perché il sito non andrà online. Ma danneggia anche voi. Perché chiaramente non salderà qualcosa che non è finito. Quindi dobbiamo fare in modo di tutelare il nostro lavoro. E indirettamente tuteliamo anche il cliente. Questa, io ho proprio portato una delle clausole che scrivo io, così ce l'avete. Modalità e tempo comunicati dal fornitore. Quindi, io non ti devo dire già contrattualmente, ma ti devi attenere a quello che io dirò. Un'altra cosa che ho sottolineato, quantitativamente e qualitativamente corretti. Perché se ti chiedo 500 parole per fare la pagina chi sono, non mi puoi dare tre righe. E poi, eh vabbè, ma sviluppalo tu. Perché allora gli vendete anche il copy del sito. Qualitativamente. Quante volte la fantastica azienda che magari investe in 3.000 cose vi mandano le foto fatte con, non so, l'iPhone 5, mezze tremolanti e voi dovete fare un sito con questa roba qua. E poi siete voi a non aver lavorato bene. Scaricate a loro la responsabilità. Io ti dico entro quanto tempo voglio il materiale, ti dico che materiale voglio, in che quantità. E poi l'esclusione di responsabilità. Se tu non agisci, non fai quello che ti dico nel tempo previsto, si modifica la data di consegna. Non per colpa mia. Infine, l'ultima frase, quella che mi piace di più e forse vi può piacere anche di più. La modifica, la non modifica della data del pagamento. Se io ti devo fare un sito entro il 30 di novembre, tu mi pagherai comunque il 30 di novembre, anche se il sito non è pronto perché non mi hai mandato le foto. Non siamo al mercato. Certo che se abbiamo un contratto di questo tipo qua, è difficile andare a tutelarsi. Io sono un umile avvocato e non faccio il vostro lavoro, ma se l'attività è servizi, marketing, grafica, copi, social, SEO, digital marketing e qualsiasi cosa, facciamo fatica a tutelarci con una cosa del genere. Propietà intellettuale. Questo è un altro bel argomento. Non siamo a parlare qua di copyright e proprietà intellettuale, ma due cose ve le voglio dire. Ci sono i diritti morali, voi avete realizzato quel sito, sarete sempre voi i soggetti che l'hanno realizzato e non cambierà mai. Noi non siamo negli Stati Uniti dove è cedibile la proprietà morale. Prima cosa, cosa cedete? Diritto di sfruttamento, cioè la possibilità di sfruttare quello che avete realizzato. Sostanzialmente voi vendete questo realizzando un sito. Però il problema è, c'è mess, che tema? Facciamo un sito custom? WordPress. Ma voi state trasferendo la proprietà di WordPress quando fate un sito in WordPress? WordPress non è né mio né vostro. Il tema. Avete acquistato un tema a 50 dollari. Ok. È vostro? No. Avete acquistato la possibilità di usare quel tema e chiaramente lo trasferite al soggetto finale, all'azienda, al professionista finale. E se fate un sito custom? Sito custom avete messo voi delle mani, avete preso un prodotto, l'avete trasformato, avete creato qualcosa di nuovo. Potete cederlo. È vostro. Però state attenti. Qualche giorno fa stendevamo un contratto per un soggetto che faceva siti custom praticamente in copia per un determinato funnel. Non entro nello specifico. Il senso però qual è? Se io ti cedo la proprietà esclusiva di quel sito custom, non lo posso riutilizzare per l'altro cliente. Non posso dire cambi i colori e lo venda un altro. Perché l'ho ceduto. Non è più mio. Sarò. Manterò i diritti morali, ma non il diritto dello sfruttamento economico. E questo era il discorso sfruttamento esclusivo e non esclusivo. E poi ritorniamo un po' al discorso del materiale. Sfruttamento del materiale, cioè di quello che avete realizzato, solo alla conclusione del servizio. Perché? Perché io vi trasferisco la proprietà nel momento in cui mi saldate. Non prima. Perché in quel modo lì, uno, avete una leva economica per farvi pagare. Due, guarda che tu stai usando un sito realizzato da me, stai sfruttando la mia proprietà intellettuale, quindi oltre a saldare, agisco anche legalmente per farmi pagare. Chiaramente io posso prevedere, ad esempio, che finito, terminato il periodo di collaborazione, l'utente finale, l'azienda non possa sfruttare nulla. Ci sono contratti che prevedono questo. È una vostra scelta. Quindi, terminato l'anno, loro non usano più quel sito. È vostro. Ci sono grandi aziende che non cito, che adesso fanno la pubblicità, che fanno questo. Forse qualcuno di voi l'ha notata in tv da qualche settimana. E poi il know-how. Ho fatto l'esempio della SEO. La SEO è un grandissimo mondo, non devo io dirlo a voi, però ognuno la fa modo suo. Io non ti sto trasferendo il know-how di come faccio SEO sul tuo sito, né ti sto garantendo, primi su Google, ti sto garantendo la mia professionalità, l'applicazione del mio know-how, delle mie competenze permette posizionare il tuo sito, punto. Questa, anche qua ho voluto darvi una clausola così ve la portate a casa. Diritto di sfruttamento economico in via definitiva solo quando avrà pagato. Questo è fondamentale. Fino a che non mi dai l'ultimo centesimo non ti do niente. non è tuo. Non è tuo. E anche qua state attenti. Comunque quel tema non è tuo che domani te lo vai a ricopiare e ci fai due siti uguali. Sarà un problema chiaramente dell'azienda o dell'utente finale, del vostro cliente finale. Questo era un esempio di diritto non esclusivo, corretto. Il cliente autorizzato, questo è chiaramente un estratto di un contratto che ho trovato, da revisionare, frui delle opere fino alla scadenza dei termini previsti. Questo è un contratto legale. Però cosa comporta? Come ho detto prima, cosa succede nel momento in cui finisce il contratto? Loro quel sito non lo usano più. Potete prevedere qualcosa del genere, vi permette di fidelizzare il cliente perché probabilmente rimarrà con voi più a lungo, però bisogna vedere se firma una cosa del genere. Perché non sta comprando niente, sta comprando una specie di abbonamento da voi. Magari è interessato, magari no. Promozione. Cosa vuol dire fare promozione? Voi andate a fare un bel lavoro e lo volete dire al mondo? Comunicate all'esterno di aver realizzato un sito. Si può fare? In realtà no. Vi serve un'autorizzazione. Vi serve un consenso da parte di quell'azienda. E vi dico di più. Per me le cose da considerare sono quattro. Il nome. Io devo poter dire io ho lavorato per l'azienda X perché mi fa brand. Due. Il marchio. Io magari sul mio sito voglio mettere il marchio dell'azienda con la quale ho collaborato. Ma devo essere autorizzato. Perché quello è un utilizzo di marchio se no non è autorizzato. Tre. Il materiale. Io voglio poter usare come caso studio il sito che ho realizzato. Magari anche mettono in una sezione del mio sito per far vedere. Guardate come sono bravo. Se mi ha fatto delle recensioni. Ad esempio su Facebook. Su Google My Business. Io le voglio magari riutilizzare sul mio sito. Tutto questo va autorizzato. Non è di base. Tante volte mi viene detto. Eh va bene ma io ho lavorato per loro. No. Io magari. Tante volte capita anche a me. Il mio cliente non vuole far sapere con chi ha collaborato. Pensate io faccio diffamazione online. Pensate se qualcuno vuole permettere la pubblicità di dire sono stato diffamato e mi ha difeso lui. Anche no. Poi la promozione. Io voglio non solo farmi pubblicità. Questo che brutta parola un po' agé. Ma io voglio magari utilizzarlo anche sui social. Domani voglio fare del materiale cartaccio. Voglio parlarne come caso studio a un evento. Tutto questo deve essere autorizzato. E poi il problema nel footer, mettiamoli, realizzato da bellissimo. Peccato che magari si affida a un altro professionista, un vostro collega dopo. O magari ho sempre nella testa quel simpatico cliente che ah ma io ci capisco qualcosa. Mette le manine sul sito che avete fatto per bene e voi avete la vostra firma su quel sito e quindi se il sito poi si mette a fare schifino voi siete quelli che l'avete realizzato. Allora cosa fare? Ad esempio mettere una clausola dove caro amico se tu ti affiderai a qualcun altro o metterai tu le mani su quel sito lo puoi fare tuo ma entro tre giorni, sette giorni levi il mio nome dal tuo sito perché magari avete concluso il rapporto e non avete neanche più gli accessi per farlo da soli. E poi il problema della collaborazione con agenzie. Quante volte siete sub fornitori del servizio quindi non siete voi direttamente a vendere un'azienda voi non potete in questo caso quindi magari c'è un'agenza in mezzo non potete farvi promozione col nome dell'azienda finale. Questo bisogna stare attenti perché vi dico a me è arrivata anche l'agenzia che voleva agire nei confronti del webmaster perché giustamente sono loro che possono farsi promozione col nome dell'azienda finale, non voi. Quindi state attenti su questo punto. Poi clausole vessatorie. Chi di voi sa cosa sono? Mani alzate ne vedo no, là c'è uno stoico il fatto che non le conosca nessuno non vi deve spaventare perché tanti tanti miei colleghi diciamo andiamo a discutere su questa cosa e magari portiamo anche dei risultati perché non le conoscono. Le clausole vessatorie in realtà le firmate praticamente nel 99 per cento dei contratti che andate a sottoscrivere tutti voi avete uno smartphone con dentro una scheda team vodafone quello che volete ok poi il contrattino vi hanno richiesto due firme se l'avete fatta ancora cartacea se no due firme digitali perché una è l'accettazione del contratto l'altra è quella delle vessatorie le vessatorie sono delle clausole questo è qualche esempio il recesso il rinnovo automatico la clausola risolutiva espressa il classico foro competente che vanno in qualche modo a modificare o a limitare la vostra libertà io sono a Roma magari la team ha il foro competente di Milano chiaramente a me fare causa team a Milano costa di più quella è una tutela per la team ma può esserlo per voi per tanti altri casi quindi un contratto senza due firme no doppia firma sempre e questo è vero e vi faccio anche no perché si sciolgono perché sostanzialmente un contratto dove non c'è un'accettazione espressa delle clausole vessatorie è un contratto nullo o annullabile quindi lo prendete lo buttate nel cestino vi dico di più ci sono stati casi dove c'è il riferimento sbagliato articolo 13 invece che 14 quindi non si applica quindi quel contratto è caduto per questo motivo quindi contratto senza due firme non più il recesso il recesso lo conosciamo tutti la grande notizia che magari qualcuno ignora è se lavoriamo con un'azienda non hanno recesso quindi se vi hanno acquistato un servizio per esempio la realizzazione del sito web ma anche la gestione social quello che volete non possono recedere per legge ma a volte magari capita di collaborare non tanto con consumatori ma magari con qualche start up le start up fino a che non nascono quindi come società sono sostanzialmente dei privati che si sono messi insieme hanno il diritto di recesso per legge i famosi 14 giorni che sentiamo anche qua quando andiamo a comprare il decoder di sky non c'è l'obbligo però un'opportunità marketing perché il discorso webmaster ancora ancora ma pensate ai tipi di attività continuative poter portare a casa un contratto magari di non di 6 mesi ma di 12 mesi magari con rinnovo automatico e gli diamo la possibilità di recedere è una clausola di tutela verso l'utente verso il cliente finale che vi permette di portare a casa però contratti mediamente più lunghi quindi non dimenticatelo a priori solo perché è non obbligatorio non sono io a farvi dirvi cosa fare ma ragionate su come possa essere una leva di marketing e poi state attenti all'ultimo elemento è capitato vedete cito la team perché mi è capitato con me anche io firmo contratti cosa è successo? Avevo i 14 giorni come consumatore ma c'era in piccolino una clausola che diceva nel caso di inizio prima dei 14 giorni sto dichiarando di rinunciare al recesso quindi anche se avete una start up o un consumatore e gli fate dichiarare che inizierete da subito a fare quel tipo di lavoro ad esempio preparargli una strategia uno sviluppo del sito anche solo il mock up potete fargli rinunciare i 14 giorni questo è interessante e comunque vi serve se domani andate a cambiare operatore questo è un mio caso ad esempio di recesso e valso con gli eurini lì perché? perché c'era un rinvio sbagliato vale a dire hanno sbagliato l'articolo da 14 a 13 un rinvio di un numero sbagliato un 3 rispetto a un 4 può valire 3.300 euro che non mi cambiano la vita però in tasca non mi fa piacere a me non è sì questo è per porre l'attenzione sul il contratto va letto va riletto va posta attenzione ogni volta anche se usate sempre lo stesso può succedere questo e lo scoprite quando c'è un problema questa cosa non prima questa è la clausa del recesso del consumatore se volete ve la prendete tanto è praticamente di legge quindi comunque devo dichiarargli questa clausola poi posso dire nel caso di inizio attività prima dei 14 giorni accettano di rinunciarvi ma io per legge sono obbligato a scrivergli quella cosa lì o similare comunque sono obbligato a dargli informarlo della possibilità del recesso anche se non lo farò pagamenti questi sono interessanti la mia idea è dividere il momento della consegna del lavoro dal momento dalla data del pagamento ho voluto farvi un esempio guarda 22 novembre devo consegnarti il sito entro 30 giorni a casa mia fa 22 dicembre prima di Natale così sono pronti col sito acconto la sottoscrizione classico il saldo al momento del 22 novembre invece della conclusione del lavoro qual è la differenza invece di dire saldo alla conclusione del lavoro molto semplice perché se loro le foto non me le hanno mandate nei tempi non glielo do il sito magari il 22 ma loro il 22 dicembre devono pagare e questa per voi diventa una leva per dire tu il 22 dicembre mi devi pagare poi lo finisci il 22 di gennaio peggio per te vedrete che in questo modo qua si spicceranno a consegnarlo e vi dico di più ci sono stati casi in cui a volte diciamo un business nati male magari quello che fa l'e-commerce perché costa meno del negozio cosa ha fatto arrivato alla fine non c'aveva più budget e allora non voleva finirlo il sito e non consegnava quello che mancava in questo modo qua lo stanate e comunque siete pagati mancato pagamento un breve recap quello è un diciamo un gruppo che mi è stato segnalato da un cliente che mi fa non mi hanno pagato sai che faccio io li vado a segnalare su gruppi del genere ragazzi esiste la diffamazione non passiamo da essere creditori di una somma a noi che ci vengono a chiedere un risarcimento l'iter è questo la richiesta amichevole mi devi pagare la richiesta formale letterina o la PEC legale poi faccio una fattura perché tante volte magari non l'ho ancora fatta gliela faccio e allora vado col decreto ingiuntivo sostanzialmente intimo il pagamento legalmente se fanno opposizione perché magari loro dicono no noi non dobbiamo non dobbiamo pagarti per il motivo X si aprirà il procedimento ordinario vi dico una cosa da avvocato guardate sempre quanto è il valore dell'eventuale non pagato o diciamo dell'eventuale contratto sotto certe cifre d'avvocato io non faccio giudiziale ma vi dico valutate per bene perché tante volte già iniziare solo un decreto ingiuntivo è un costo quindi vai prego ci arrivo guarda me l'hai spoilerato vedi a fagiolo cade questa è l'altra domanda oscuriamo il sito così anzi no glielo mettiamo due giorni in manutenzione così vanno a farci il bonifico questa è la la cosina che mi sono sentito dire dico ni perché il problema cos'è prima di tutto quel sito è loro o è nostro quindi proprietà intellettuale seconda cosa io potrei essere citato per danni magari loro mi vengono a dire io mi hai messo offline il sito a 5 giorni da Black Friday io voglio 10.000 euro poi andiamo in causa però intanto paghiamo una causa quindi va bene oscurare il sito se è previsto contrattualmente non è una leva non è un modo per invitare a pagare stiamo attenti perché spesso ci viene in mente e spesso l'ho sentito dire poi responsabilità siamo quasi alla fine materiale torna sempre se va a prendere le foto dall'azienda competitor perché sono fatte meglio e lui le ha fatte col cellulare va bene basta che si tenga responsabilità se mette le foto dei dipendenti e non si è fatto firmare un'informativa va bene ma si tiene la responsabilità poi la collaborazione con soggetti terzi perché magari voi fate il sito però c'è da collegare il gestionale all'e-commerce e il gestionale lo fa qualcun altro se questi del gestionale sono in ritardo non dovete pagare voi questa responsabilità è sua problema delle piattaforme simpatico cliente che magari non ha pagato il rinnovo del dominio eh il sito non c'è più eh no vuoi pagare problema tuo non il nostro poi l'utilizzo delle credenziali e delle password voi avete realizzato un sito concludete la collaborazione per un qualche motivo non si è trovato più bene ha deciso di prendere altre strade scaricategli la responsabilità da quel momento io non ne devo più rispondere anzi vi dico di più gliela spostate dicendo io mi obbligo a cambiare a cancellare io non sono più responsabile se tu non le cambi è comunque responsabilità tua e infine quello che dicevo le modifiche da parte del cliente quante volte il cliente magari c'ha vabbè il cui il nipote che lui sta sempre sul computer quindi è bravo allora te la carica lui la foto poi se la lascia su da 10 mega è un problema di qualcun altro però se è bravo sta sempre online problema suo se il sito poi performa male problema suo non è problema che noi abbiamo fatto un cattivo lavoro e allora facciamo che tiriamo giù del 30% il prezzo poi ho voluto lasciarvi ancora due clausoline che secondo me salvano tanto il caso di nullità questa è una clausola che praticamente prevede in caso di nullità di una qualsiasi clausa del contratto perché magari interviene una nuova giurisprudenza perché magari cambia una legge perché magari c'è stato un errore di una clausola siamo esseri umani comunque di limitare la responsabilità e questo è il pezzo da 90 che è sua sorella io stabilisco un tetto massimo un tetto massimo ai pagamenti quindi se io ti ho fatto un sito da 5.000 euro e per un qualche motivo c'è stato un danno anche per vostra colpa io non ti do più di 5.000 euro indietro quindi a massimo ho lavorato gratis ma non ho un problema di danno alla brand reputation da 50.000 euro oppure Black Friday ti è andato giù il sito perché per colpa mia è andato giù e allora hanno mancate entrate per 100.000 euro l'azienda X questa questa salva tanto anche perché su siti magari di qualche migliaia d'euro non iniziano neanche una causa perché non gli conviene economicamente con questo vi ringrazio e se avete domande sono qua arrivo mi raccomando una domanda ciao Alessandro grazie peccato che uno può fare solo una domanda mi scelgo questa lo so che la seconda non è più gratis prima hai detto che non è possibile oscurare i siti web nel momento di mancato pagamento eventualmente se noi ci siamo occupati di realizzare un tema custom nella grafica nelle cose possiamo eventualmente togliere il nostro custom e lasciare un tema di default di wordpress adesso si il microfono se non ti dico un esempio pratico mi è capitato con un cliente che è andato avanti tre anni a pagargli l'hosting perché? perché nel contratto non c'era questi hanno smesso di pagare se il sito andava giù gli altri giustamente si sono fatti fare una consulenza ha detto tu me lo paghi anche se io non ti sto dando più un euro e alla fine abbiamo trovato una transazione perché potenzialmente il danno non è solo che non ti pagano è che gli devi tenere sul sito quindi se io realizzo qualcosa di mio deve essere chiaro che cosa trasferisci e il fatto di oscurarlo se non c'è scritto su questo contratto tu non oscuri mai niente nessuno perfetto grazie una domanda sola promessa non di più così vi semplifico il lavoro prima però volevo dire complimenti ottimo troppo molto interessante come al solito io penso che alla fine le cose legali siano alla fine le cose che già noi di solito gestiamo sì però poi alla fine sono quelli che ti ho messi poi su un foglio alla fine questo è la domanda che ti faccio io è ma tu cosa ne pensi dei sistemi di generazione automatica dei documenti legali perché io personalmente li uso adesso non so molti sono dicono di no molti dicono anche perché capito anche per interessi che hanno loro grazie ti posso dire questo io non sono contrario o a favore di niente c'è qualche servizio di generazione di creazione di siti in dieci minuti vi faccio una domanda quanti voi siete un webmaster mi volete perfetto mi volete paragonare un sito realizzato da voi con tutto quello che mettete a un sito fatto da me qua con le mie manine in dieci minuti il senso è questo per me il contratto non è un pezzo di carta e cosa fai tu rispetto a lui rispetto a un altro cioè le peculiarità del tuo lavoro un sito di generazione automatica va bene ma è un altro tipo di prodotto come un sito realizzato da un webmaster o quello del programma con dieci minuti non è un è comunque un sito ma legalmente può anche legalmente potrebbe anche andare bene il problema è cosa stai comprando l'importante è quello cosa stai comprando e qual è la tua finalità è avere un documento tutelante o qualcosa cioè siamo sempre lì io posso io posso sapere qualcosa sulla realizzazione del sito ma non sarò mai un webmaster ok uno può avere competenze legali ognuno ha le sue ciao prima avevi parlato sul fattore diciamo dell'intendere una causa legale nel caso non sei entrato troppo in uno specifico però capisco che ci sono delle limitazioni però hai detto ci sono delle cifre per cui non vale quasi nemmeno la pena parliamo schietto su che cifre si allora te la giro nell'altro punto di vista perché comunque io ho un problema deontologico io sono faccio parte di un ordine professionale come avvocato quindi non ti posso dire non fare causa perché se no mi segnalano a me quello che ti posso dire è ti posso dire questo anche solo una lettera ha un costo di qualcosa un decreto ingiuntivo anche solo i costi materialmente paghi allo Stato la marca da bolle eccetera sono un costo quindi se uno mi dice sotto x euro qualche mila d'euro magari sotto i mille euro magari li riporti a casa però intanto tu stai tirando fuori altri soldi per averne altri il problema magari veniamo a scoprire che quell'azienda è un SRL una scatolina vuota oggi per aprire un SRL bastano anche il capitale minimo 10.000 ma in realtà con 2.500 euro la apri e magari è una scatola vuota quindi non ti sto dicendo non agire ma valuta bene è chiaro che se mi arrivi e dici hanno comprato un sito a 25.000 euro hanno pagato 5.000 euro ma sicuramente agiamo ma valuta caso per caso valuta quanto magari arrivare stragiudizialmente a un accordo non sono contenti tanto loro tu vuoi essere pagato troviamo un accordo e nessuno va in causa né te né loro perché poi basta che ti faccia un'opposizione e tu dal decreto ingiuntivo che è già un costo passi a una causa ordinare e sono anni che passano questo è l'altro problema il tempo allora cambiano da da Lucca è diverso da Milano diverso da Vare cambiano da luogo a luogo ti posso dire che sicuramente che la causa ordinare è più lunga poi magari andiamo in secondo grado e diventa quello che si sente in tv la storia infinita sì esatto altre domande? io voglio chiedere per ovviare il mancato pagamento da parte del cliente noi come agenzia possiamo richiedere il pagamento prima della messa in produzione anche nel caso in cui ci sia stata una fattura d'acconto che non è ancora stata saldata prima della chiusura dei lavori quindi dire te mi paghi prima la fattura d'acconto e mi saldi tutto il lavoro e dopodiché io te la metto in produzione allora quella possiamo chiamarla strategia legale per il pagamento fa anche un po' figo come nome sostanzialmente noi stabiliamo nel contratto quello che si vuole possiamo prevedere un acconto percentualmente possiamo avere uno secondo step di pagamento sicuramente io andrei a tutelare dicendo ma se tu non hai pagato la seconda rata io non vado avanti fino a che non me la saldi per esempio io posso prevedere anche il completo pagamento prima della messa online posso prevedere quello che voglio l'importante è lo informiamo per bene gli diamo tutti gli elementi e chiaramente il cliente valuta mi sta bene o non mi sta bene l'importante è non agire dopo che è un contratto firmato tipo quello di prima a crocetta e basta e non è stabilito non la dici pagamento come capita perché poi sei tu a violare i suoi diritti non viceversa ragazzi mi sa che ce ne sta una o due corriamo corriamo volete un altro argomento continuiamo questo ditemi voi vai pro forma o fattura pro forma pro forma perché il senso della fattura io perché ho scritto questo perché nel momento in cui tu vai a staccare fattura comunque l'iva te l'anticipi due quei soldi vengono tassati allora quello che dico è a un certo punto gliela stacchi nel momento in cui vai a fargli un decreto ingiuntivo se no non hai il titolo ma prima valuta bene ti dico tante volte arriviamo in transazione e solo in fase di transazione gli fai emettere fattura perché così guarda caso unisci non il quanto dovevano ottenere ma quanto abbiamo chiuso la transazione e fatturano solo quello e non ci pagano almeno iva e tasse varie questo per me è una soluzione non dico furba giusta ultima chi si offre vado salve non si è parlato di gdpr mannaggia me lo dimentico sempre sto gdpr perché non lo so tanto bene no ma non entro nel merito mi incaricano di mettere una privacy policy che è stata redatta da un consulente io in qualche modo sono responsabile del contenuto se non c'è stata la conformità totale scarica la responsabilità tu di gdpr con tutto il rispetto non sei un avvocato e anche se lo fossi io roba di altri non la tocco gliela scarichi la responsabilità quindi nelle esclusioni c'è anche quello come il resto del materiale come l'immagine non corretta è responsabilità tua a quello che mi dici di mettere sul sito punto a me è capitato che mi hanno mandato a revisionare lo dicevo prima raccontavo prima la privacy policy ah chiedo una revisione era quella della coca cola in mezzo avevano dimenticato che ho scritto coca cola cioè voglio dire neanche no perfetto però se gli scarichi la responsabilità innanzitutto loro sono i titolari del sito quindi i primi a rispondere sono loro e se anche tu fossi in qualche modo responsabile del trattamento perché magari gestisci il sito eccetera comunque internamente gliela stai portando a loro la responsabilità e così non paghi tu sostanzialmente niente ok ok grazie a tutti grazie a tutti